La notte bianca del commercio Una notte è l'insegna degli sconti e delle iniziative promozionali da parte delle attività commerciali che per l'occasione sono rimaste aperte oltre al consueto orario di chiusura serale ma anche dei piccoli eventi di musica, spettacolo, arte e cultura. Novità di quest'anno è il concorso a premi per gli acquirenti dei negozi che hanno partecipato all'iniziativa. Ogni attività commerciale infatti ha consegnato ad ogni cliente un biglietto per le estrazioni finali di tre premi ossia due biciclette e un monopattino. La notte bianca è un evento fortemente voluto dall'UCN, Unione Commercianti, Nardo e Marine e da tutte le attività commerciali e produttive del territorio. Noi come amministrazione siamo orgogliosi di sostenere tali iniziative e di stare a fianco con i fatti delle nostre attività commerciali e produttive. Ringrazio a tal proposito tutte le attività commerciali che hanno partecipato ma soprattutto il sindaco, i colleghi consiglieri e tutti gli assessori perché tutti quanti insieme ci siamo impegnati alla splendida riuscita di questa meravigliosa serata.